Allora regà dobbiamo decidere una roba, dobbiamo decidere se nella squadra mettere Vinicius insieme ai Termi Litao, considerando che useremo Story Charlison, forse Vinicius è la cosa migliore da mettere. Più che altro Vinicius lo volevo mettere perché volevo provare pure assolutamente Valverde, cioè Valverde lo voglio assolutamente provare, per forza, Teo e Mignon per forza, Teo e Mike è bello, però ma nei Coulibaly è un bel link, Levi Teo e Mignon, sti cazzi, ragazzi ci serve foot capoccia, modulo 4-4-1-1, allora a sto punto se vogliamo chiudere Real Madrid fammo così. Secondo me è un'idea, Mané, Mané, Davis, Koulibaly, Bellingham, Saka, Davis e Frimpong che stanno comunque a 2. Porco 2, è una manata sta squadra, le Termi Litao o gioco terzino, che me frega, ma quitte è necessario regà, Valverde può fare esterno, eh sì, Valverde può fare esterno e... Iaia dure. Xabi Alonso regà mi dispiace ma non se può fare, bisogna aspettare, magari aspettiamo i Future Star per provare Xabi Alonso. Quanto dura l'SBC di Xabi Alonso, ragazzi? Un mese? Eeeh, allora, aspettiamo le Future Star e proviamo, e lo proviamo tipo con Gavi. La squadra spigna, eh, la squadra spigna e come? La cosa che mi lascia un po' sospetto è quelle Termi Litao terzino destro, però lo proviamo, I don't care. Devo comprare Termi Litao Vinicius Davis e devo comprare sti quattro, che poi tra l'altro mi dirai ma quanto costano mo' questi? Madò, 2 milioni e 195. Poi, Davis. Valverde. Ma sto Valverde perché costa così poco che pare il mostro sacro? Un mione 5,68 mi sa che è il minimo. Ma non diventa lenti Valverde, no? Porco Dio. È l'entico architetto. Allora, 4, 3, 2, 1 il modulo. Richarlison punta. Vinicius a sinistra, ma ne ha a destra. Yaya Duret centrale. Bellingham a destra, Valverde a sinistra. Mi piace. Così provo un po' di più Valverde. Tanto le istruzioni già ce le ho tutte fatte apposta. FU Champions. Vai. Andiamo. Vai Richarlison. Pum pu. 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 Ma raga, posso dire, da questo primo tiro tira meglio Richarlison di Haaland. Poi Richarlison ha 5 debole pure, mica fischia, eh. Però l'SBC non mi è parsa proprio cheap. Cioè mi è parsa l'SBC abbastanza costosa. Però c'è da di che ce sta, perché comunque c'è l'89 che... C'è l'89. Guardalo. Signori. Tocca sta attenti, signori. Potremmo avere un nuovo Orighi. Orighi. Come cartina. Manca il 5 de debole. Il 5 de skill, però... Mamma mia, ma che tiri ciao. Mi regalerei volentieri un po' di crediti, se mi dessero la possibilità di farlo. La certezza del non ban. Anche perché non è che mi sembra che sta a fa' chissà che è illegale, porco zio. Cioè dai, sto regalando un po' di crediti a un po' dei ragazzi della community. Cioè non è che dici sta a fa' chissà che. Mannaggia la troia. Vai Richa. Chiudi, la va. Niente, è troppo forte. Tripletta di Richarlison. Tripletta di Richarlison al primo game. In 22 minuti. Libali pareciotto. Onesto. Ah, Valverde è vero che sta a giocao. Oh, la Richarlison. Ah, peccato. Ma... Vinicius. Te vi ha pizza in testa, te vi ho. Bello, bel gol, bel gol, bel gol. Chi è? Saga? Ah, però è la versione quella stupida. Più che altro con sto modulo si sente poco manè, perché rientra tanto. Forse manè al posto di Vinicius, boh. E del Militao vedo che va in giro un po' troppo a cazzo dei cani da terzino, onestamente. Partime. Niente. Fortissimo. Davanti alla porta un predatore. Ah, vogliaia, Dure. Mannari, Richarlison, va. Ma rega, ma il piccione tira delle saracche. Ha fatto cinque gol. Ma tira proprio dei ragazzini glamorosi, oh. Ok, dovrei aver ucciso più o meno Van Dijk, tipo. Bravo. Il piccio. No, ho sbagliato time finish. Mannè è un po' sprecato, secondo me, lì a rientrare, comunque, onestamente. Perché sta carta di Mannè... C'ha dei bei tiri. Ma i Termini d'Ao lo vedo molto in giro a cazzo dei cani. Secondo me è mezzo bocciato da terzino dei Termini d'Ao. E te lo dico dopo una partita, ma... Non lo filo proprio. Sta andando in giro un dolie pare. Un po' alla cazzo. Chiedi a X. Madonna, ma mi sa che ha fatto... Tipo due, tre assist, Mannè, eh. Bello. Ah, guarda che ha preso. Vuole palla a Bellingham. A me io gli la do. Quanto mi fa ridere quando prendo in testa i giocatori miei, porco zio. Ma perché? Ma beh, ma mi succede sempre. Ma li pio sempre in bocca, i giocatori miei, oh. Che è questo? L'Uracano. Ah. Bello, Courtois. Ottima uscita. Tovinicius e Dumioni e due. Che dite? Per ora io ti dico N.C.S.P., eh. Ah, regà, niente. Sto in fissa con ste traverse, oh. Sto in fissa con ste traverse di punizione, oh. GG. Allora, prima partita, ragazzi. Cinque crocche. Del piccione. Andiamo alla prossima, va. Allora, vai. Secondo avversario. Guarda, te prego. Basta che non mi dai un bot. Ok, pensavo fosse un bot, regà. Ah, invece no. È un ragazzo che gifta i game. Oh, no. No, non li gifta. No, gioca con sta squadra, regà. No, ma faccio schifo a fare time finish. What the fuck? I richarli, son. Eh, non mi riesce un time finish. Vabbè, questa non valeva, dai. Allora, questo faccio l'ultimo game. Se è un game fatto bene, ne faccio giusto due. Così che almeno, secondo me, con due partite è pure più enjoyable. Piuttosto che fanne tante che magari stressano. Vai. Dai, richarli, faccio vedere. Questo c'ha già una difesa più adeguata, secondo me. Beh, no, vabbè. Prima c'era Van Dyke. Comunque non è che dici a merda. Però c'hai termini d'autodi, magari. È cattivo, però, Richarlison. È poco cattivo. Nooo, è qui ho trollato. Qui dovevo fare lo stop portandomela su... Cioè, sul destro. Trollato io. Vabbè, niente, sto a trollare, scusa. Sto a trollare. Regà, è colpa mia, sto trollando. Cioè, c'è poco da dire. Bravi. Vabbè, difensivamente però siamo ciotti. Piedi a X, così ti voglio. Così ti voglio, Vinicius. Bravissimo. Pulito. Ma regà, Sandrino Bastoni, ahù. Il verde è abbastanza invisibile, ste partite. La Davis. Bello. Era regolare. Ammazza che golletto. Vabbè, non era facile. Però il verde nel centrocampo a due può far meglio, magari. Centrocampo a tre, magari qualcuno tende a sparire. Figore, ref. Questo è un gran gol. Lì. Richarlison. Sadio Mane. He's the best football player in the world. Dalla Sadio Mane, va. Sadio Mane. Che forte è sto Mane comunque, mamma mia. Sto Mane è proprio forte, forte. Il problema è l'incallo, però. Ragazzi. Il gol di Lucio. Che la butta dentro. Vabbè, però stiamo a giocare tipo De Cristo proprio. Vabbè, GG ragazzi. Dai, 7-0 ci può stà. Una piccola valutazione finale. Story Charlison. Story Charlison non è male. Non è male. Però, secondo me, è overpriced, ragazzi. È sicuramente overpriced. Come overpriced sto Vinicius, Valverde. A me Terminità o Tersino Destro non lo usate. Mentre invece Coulibaly è ciotto. Coulibaly molto ciotto. Mane è altrettanto ciotto, secondo me. Mane è overpricato. Allora, devi calcolare che se c'hai tanti non scambiabili, Mane è worth. Perché poi il One to Watch è 92. Capito che ti voglio dire? Cioè, questo te lo darai prima o poi in petto. Però è forte. A me piace. Però la squadra è ok, dai. È ok, certo. Costa troppo.